il nuovo disco di eminem fa cagare dichiarazione impegnativa porca paletta eppure quello che stanno dicendo molti recensori molti di quelli che fanno le reaction si stanno lamentando di questo disco che non è all'altezza in questo video vi dirò la mia parliamo un po di eminem ma non vi parlerò solo del disco visto che questo podcast si chiama musica marketing e mentalità parleremo di eminem per quanto riguarda la musica il marketing e anche la questione mentalità che in questo discorso secondo me è molto importante quindi sarà un video un po più colloquiale ma voglio dirvi la mia su questo disco che è molto importante perché eminem è un artista molto importante quindi in qualche modo bisogna parlarne per forza prima di cominciare però mi presento ciao guerrieri io mi chiamo red sky sono musicista e ho anche un'agenzia di marketing per musicisti che si chiama ronin academy cosa facciamo in questa agenzia insegniamo gli artisti come si creano contenuti virali quindi che fanno centinaia di migliaia di views senza perdere la dignità e senza metterci ore bastano 5 minuti al giorno questo è quello che facciamo in maniera tale che gli artisti poi possano piano piano costruirsi la propria fan base di verifan ed essere totalmente autonomi e indipendenti se vuoi saperne di più se vuoi cominciare a capire come migliorare il tuo progetto in descrizione trovi un video corso gratuito è un unico video di 48 minuti che ti spiegherà tutto quello che c'è da sapere quindi mi raccomando dagli un'occhiata detto questo partiamo allora eminem come tutti saprete che ormai tra l'altro ha 52 anni ha pubblicato il suo nuovo disco e forse ultimo disco e in tutti ne stanno parlando e spesso negativamente ho visto recensioni ad esempio quella di rolling stone ho visto delle reaction ad esempio quella degli arcade boys insomma sono tutti lì a dire è ma questo poteva fare meglio e ma quello poteva farlo meglio questo è noioso va bene allora adesso io vi dico la mia di musica marketing mentalità riguardo questo disco e riguardo questo artista alcune cose possiamo impararle e applicarle anche sui nostri progetti altre ovviamente no perché stiamo parlando di un livello divinità rispetto a un livello pezzenti in cui siamo noi comuni mortali rispetto a lui per cui molte cose non si possono applicare lui può fare letteralmente il cazzo che gli pare può anche fare un disco che dura un minuto che tanto funzionerebbe lo stesso però alcune cose le possiamo applicare allora partiamo dalla questione musica allora secondo me su questa cosa diciamo è una delle poche cose in cui le critiche in qualche modo sono leggermente giustificate cioè nell'ascoltare il disco anche io l'ho trovato un pochino diciamo noioso ed è un problema che ho riscontrato anche in altri dischi di Eminem poi il problema qui è che secondo me un artista come Eminem tu non lo puoi ascoltare senza capire il testo cioè ormai ci siamo abituati che la musica non dice più un cazzo e quindi deve essere orecchiabile ma quando ci sono artisti che le cose le dicono come nel caso di Eminem se tu non capisci il testo ti stai perdendo il 90% della canzone anche perché è un concept album tra l'altro quindi non puoi ascoltarlo senza capire quello che dice quindi io che lo ascolto senza capire quello che dice mi perdo il 90% del contenuto del senso del disco e quindi mi resta solo la musicalità però secondo me non dobbiamo cadere in questo tranello qualsiasi tipo di artista emergente, emerso o divinità come lui secondo me dovrebbe sempre ricordarsi che comunque stiamo parlando di musica quindi è una cosa che tu ti ascolti e che innanzitutto ti deve intrattenere quindi prima arriva il sound poi arriva il significato quindi io mi ascolto una canzone e dico ah che figa mi fa muovere il collo e tutto mi carica poi mi viene la curiosità se hai in un'altra lingua di dirmi fammi vedere cosa dice e vado a vedere e dico cazzo ma c'è pure del contenuto ma è un genio allora oppure in altri casi non dice niente però almeno te la godi se invece tu fai il contrario cioè mi fai una canzone che è piena di significato ma a livello musicale ti annoia tu non ci arrivi neanche a ascoltare il testo perché se io metto su una canzone e dopo 10 secondi mi ha stufato non approfondisco neanche quindi secondo me anche nelle canzoni bisogna sempre ricordarsi cosa viene prima così come nei contenuti tu prima leggi il titolo e poi approfondisci anche qui prima ti arriva l'intrattenimento quindi prima la canzone ti deve piacere ti deve far muovere il collo ti deve piacere il dit ti deve piacere il flow eccetera eccetera e poi arriva il contenuto quindi questo secondo me è un errore che fanno in molti artisti sia emergenti che non che pensano che diciamo si concentrano troppo sul testo magari senza ricordarsi che è musica e quindi prima arriva l'attitudine arriva il ritmo arriva il flow l'impatto e tutte queste cose qua quindi lo vedo spesso questo errore sento magari delle rime della madonna in artisti anche italiani poi però mi rendo conto che io le sto ascoltando perché magari a me interessano le rime però una persona normale si ferma molto prima perché se per farmi sentire quanto sei bravo mi annoi c'è un problema poi non sto dicendo che è il caso di Eminem anzi quando parleremo del terzo punto ridimensionerete anche quello che sto dicendo cioè non mi permetto di dare consigli a Eminem ovviamente però quello che sto dicendo diciamo per spezzare una mini lancia verso chi non ha apprezzato il disco primo consiglierei di leggere il testo perché non è un disco che puoi apprezzare solo il sound però comunque un piccolo consiglio che possiamo imparare da tutta questa faccenda è ricordiamoci che comunque è musica quindi io ti consiglio poi se vuoi accettalo se no no questo consiglio di fare canzoni che siano godibili anche per uno straniero cioè anche per qualcuno che non capisce quello che stai dicendo perché in questo modo puoi diventare famoso anche all'estero e puoi piacere a molte più persone se invece per apprezzare la tua canzone devo per forza capire tutto quello che dici ti stai limitando molto quindi a livello di musica diciamo secondo me Eminem avrebbe potuto prestare un pochino più attenzione alla scelta dei beat e alla musicalità per fare un disco diciamo perfetto poi ripeto non mi permetto di dare consigli a Eminem questa è una mia umile opinione Eminem so che ci segui perdonami detto questo a livello di marketing cosa ha fatto Eminem in questo caso per questo disco la scelta di marketing principale è stata quella di annunciare che questo sarebbe stato l'ultimo disco qui entra in gioco una delle leve più famose del marketing diciamo che è quella della scarsità e anche dell'urgenza in qualche modo quindi se tu sai che una cosa è l'ultima volta che avviene come nel caso quindi è raro come nel caso dell'eclissi aumenta il tuo desiderio di voler partecipare quindi se tu mi dici l'ultimo disco di Eminem innanzitutto attiri la mia attenzione perché io dico cazzo no perché e mi interesso e poi me lo vado ad ascoltare perché sono curioso di vedere che cosa ha da dire in questo ultimo disco poi probabilmente questo è l'ultimo disco di Slim Shady sì perché è tutto una questione di varie personalità quindi è Eminem che uccide Slim Shady eccetera quindi magari ci saranno altri dischi però comunque ha anche 52 anni quindi potrebbe anche essere effettivamente che questo è il suo ultimo album oltre a questo non ho visto altre grandi iniziative però anche qua nel caso qualcuno pensasse ah vedi Eminem non usa il marketing quindi non serve cioè stiamo parlando di Eminem cioè stiamo parlando cioè se scendesse Gesù Cristo di nuovo sulla terra e si mettesse a rappare probabilmente avrebbe meno fan di Eminem cioè stiamo parlando di una divinità quindi lui può letteralmente fare il cazzo che vuole e se lui dice ho fatto una canzone quello è già degno di attenzione da parte di tutto il mondo che è quello che invece gli emergenti non hanno cioè un emergente che dice ho fatto una canzone nuovo singolo fuori ora non è una notizia cioè chi se ne frega Eminem che dice nuovo singolo fuori ora ho fatto una canzone è una notizia perché Eminem quindi lui può letteralmente fare quello che vuole però in questo caso diciamo se vogliamo imparare una lezione è stata quella della scarsità quindi del dire che questo sarebbe stato il suo ultimo disco il videoclip richiamava vecchi singoli quindi c'è un po' l'effetto nostalgia o comunque richiami ma soprattutto è un concept album e Eminem probabilmente considerando il periodo storico in cui viviamo dove la gente si ascolta i singoli e basta si ascolta tre secondi e poi schippa ci ha tenuto a fare un post su Instagram in cui precisa guardate che questo è un concept album quindi se vi ascoltate le tracce a caso potrebbero non avere senso che infatti è l'errore in cui sono cadute molte delle recensioni molti di quelli che fanno le reaction cioè ripeto se non capisci il testo se non capisci che è un concept fai la figura del coglione perché non capisci le battute non cogli i riferimenti non stai capendo che cosa sta succedendo nel disco quindi Eminem ti dice una cosa magari per prendersi per il culo da solo ti fa apposta un dissing becero per poi criticarsi e tu gli vai a dire eh ma che battuta becera l'ha fatta apposta però se tu non capisci fai la figura del coglione quindi a livello di marketing insomma quello che è accaduto è questo ultima cosa secondo me la più importante mentalità allora secondo me per quanto ognuno è libero di avere la propria opinione e ci mancherebbe ma ci sono alcuni artisti come Eminem come Battiato come De André come che ne so Jimi Hendrix Michael Jackson che ti possono piacere ti possono non piacere e questo ovviamente è legittimo puoi avere le tue opinioni ma secondo me davanti a artisti di questo calibro tu dovresti entrare nella mentalità che se non ti piace è colpa tua cioè sei tu che non stai capendo qualcosa cioè comunque non puoi dire a lui come deve fare il suo lavoro cioè se c'è qualcosa che non quadra il problema è tuo cioè io ad esempio sono grande fan di Battiato ma non è che mi piacciono tutte le sue canzoni me ne piacciono alcune ma quelle che non mi piacciono non è che dico ah vedi non è capace di fare le canzoni che merda sta canzone dico scusa Battiato è colpa mia non sono degno non sono ancora in grado di capire questa canzone di apprezzarla perdonami cioè è colpa mia non è colpa sua così come nel caso del jazz o della musica classica non sono ancora in grado di apprezzarla non riesco mi annoia ma non è che dico non sono capaci dico non sono io ancora in grado discorso diverso per artisti scarsi come il 90% della musica attuale dove mi permetto di dire questa è plastica questa è una schifezza questo non sono capaci di scrivere testi ma nel caso di artisti di quel calibro cioè che cazzo gli vuoi dire a Eminem? cioè questo ha cambiato il rap mondiale cioè se consideriamo la sua storia consideriamo i suoi dischi le sue capacità cioè questo è una divinità come ti passa per la testa a te solo perché sei uno che fa le recensioni di dire Eminem ha fallito qui non è capace qua la figura cioè ma chi cazzo sei? cioè come puoi permetterti di criticare una roba del genere? cioè poi per carità se lo vuoi pensare pensalo ma risparmiati la figura imbarazzante di scriverlo cioè nel caso di artisti di questo calibro ad esempio a me non piace che ne so come dicevo prima il jazz magari non mi piace so Whitney Houston o non mi piace Michael Jackson ma non è che li critico dico, riconosco che sono artisti della madonna ma a me non piacciono quindi in questo caso sarebbe stato più onesto dire Eminem è una divinità questo disco io non lo capisco o non mi piace ma non puoi permetterti di critica di insegnare a Eminem come si fa un disco cioè questo lo fa di lavoro da 30 anni e a livelli inimmaginabili cioè come ti passa per la testa cioè è una questione di mentalità questa appunto per cui come dicevo all'inizio nel primo punto secondo me si poteva fare più musicale ma se l'ha fatto così ci sarà un motivo quindi evidentemente a lui piace o effettivamente magari non gli interessava di essere musicale magari l'ha fatto apposta di non essere musicale per dare più attenzione al testo cioè non sarò certo io a insegnare a Eminem come si fa il disco quindi io ho approfittato della sensazione che ha suscitato in me per cercare di ricavare un insegnamento utile per noi comuni mortali ma non mi passerà mai per la testa di dire a Battiato o a Eminem o a Michael Jackson come si scrive una canzone e qui secondo me c'è un attimo da ridimensionare le cose cioè sta cosa di internet ha fottuto il cervello a molti cioè l'idea il fatto di poter dire la propria opinione su tutto e in ogni momento ha illuso le persone che la loro opinione conti qualcosa anche quando non ne capiscono un cazzo di quell'argomento cioè non è che perché puoi scrivere un commento o puoi scrivere una recensione significa che sai quello che stai dicendo che la tua opinione conti qualcosa e che sei in grado di dare un'opinione a determinate persone cioè Eminem è qua e tu che fai la recensione non ci stai nell'inquadratura perché sei ancora più in basso quindi come ti passa per la testa di andare a criticare un colosso del genere puoi avere un'opinione puoi dire non mi è piaciuto ma se non lo capisci non credo sia un problema di Eminem credo sia un problema tuo quindi secondo me a livello di mentalità un po' di umiltà nei confronti dei grandi artisti poi degli altri per carità cioè ascolti il disco di Tony F puoi dire che non sa scrivere i testi cioè mi sembra legittimo ma è palese ma quando uno arriva allo status di genio barra divinità secondo me se ti metti a criticarlo fai un po' una figura di merda cioè stai dicendo più di te stesso che di lui comunque questo è il mio parere detto questo riassumendo allora se dobbiamo cercare di ricavare degli insegnamenti da questo disco di uno degli artisti più importanti del rap mondiale della storia dell'umanità direi a livello di musicalità se ti posso dare un consiglio è quello di ricordati che le canzoni sono innanzitutto canzoni quindi innanzitutto devono intrattenere che in alcuni casi sarà far ballare in alcuni casi sarà far muovere il collo ma in ogni caso prima arriva il sound e dopo i testi quindi idealmente ci sono entrambe le cose ma ricordati che prima di tutto il disco deve essere orecchiabile per quello che significa nel tuo genere a livello di marketing in questo caso abbiamo visto il principio di scarsità d'urgenza quindi in ogni caso anche se non fosse scarsità e urgenza lui ha reso il suo disco una notizia quindi perché è importante questo disco perché è l'ultimo nel tuo caso può essere che ne so perché è importante questo disco perché parlo del politicamente scorretto che in questa epoca è importante che ne so oppure perché è dedicato alla Palestina che ne so cioè un motivo per renderlo importante perché altrimenti è un disco come tutti gli altri e fine poi in quel caso il fatto che fosse di Eminem già era la notizia però per comuni mortali ci vuole un motivo e infine a livello di mentalità cerchiamo di ridimensionarci e di ricordarci con chi abbiamo a che fare e in alcuni casi l'umiltà è utile oltre a questo aggiungo che comunque tutto questo è frutto dell'epoca in cui viviamo perché essendoci abituati a canzoni di due minuti se va bene che non dicono un cazzo e che sono fatte apposta per funzionare su TikTok quando ti arriva un artista che ti fa un concept album e in più pregno di significati che quindi ti richiede di ascoltartelo tutto dall'inizio alla fine con attenzione e non una canzone quella schippando e mentre fai altre cose sul telefono la gente va in crisi e siccome non lo intrattiene subito i primi dieci secondi dice ah vedi Eminem è una merda non è capace è noioso ma certi dischi richiedono una certa attenzione se no ti ascolti i trend su TikTok e facciamo prima quindi purtroppo questa è l'epoca in cui ci troviamo Eminem evidentemente non si vuole adattare a questo schifo e continuo a fare il suo come è giusto che sia e grazie a Dio che esiste ancora qualcuno così io spero che si torni verso la direzione Eminem quindi agli album meglio ancora se hai concept album e all'attenzione dedicata alla musica e non alle robe da TikTok squallide staremo a vedere e il futuro della musica è anche in mano a te che mi stai ascoltando se fai musica di qualità oppure no ma soprattutto se sei in grado di farlo ascoltare questa musica di qualità perché se chi fa musica di plastica è in grado di raggiungere tante persone grazie al marketing mentre tu che fai musica di qualità non sei in grado di raccontarla e di far arrivare alle persone perché di marketing non sei nulla ovviamente vinceranno loro è per questo che mi occupo di marketing perché il marketing è l'arma che ti permette di farti conoscere in maniera autonoma indipendente senza dover fare favori sessuali a nessuno senza dover pagare nessuno eccetera quindi per questo insisto e per questo ti invito ancora una volta a guardarti il mini corso gratuito che trovi in descrizione perché ti aprirà la mente su tutti questi concetti detto questo se volete dirmi la vostra su Eminem e su questo disco lo spazio dei commenti è sempre aperto io vi do appuntamento a domani mattina sempre alle 9 sempre qui su Spotify o su YouTube ciao guerrieri